Cosa ti prende? dove c'è? si sento si sento non 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 si sento bravo grazie hai visto che non si sento ciao ciao ci vedo sono abbrondata sei matissima eh non mi va che tu mi guardi troppo che sei? zio guarda Ale i pulcini zio guarda però sono tre mesi che che tempo hanno è buono e non c'erano quando sono andati via agredito è che bella ma che bella che bella ma che bella primavera qua ecco che lo vediamo se adesso ti parti puoi volare come corrono io non so se metterli dentro eh si perchè fuori di peggio scappa ma adesso c'è già un piccione eh ma fuori di peggio perchè van via si se non scappa ma adesso c'è un piccione e andravier dopo ecco quanto riguarda? no, non so quanto tempo dov'è la medaglia? dov'è la medaglia? è scivolata quanto sei arrivata? terza la campionessa no, la campionessa è la prima ah si? non so quanto tempo e quest'anno? quest'anno quinto ah quest'anno quinto si arriva il tempo quando avete fatto la gara? non c'è senti quello là? sto occupando chi? io giù là ah si? guarda qua l'olica 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 voglio fare un po' io? no non fa un po' me fare un po' me eh? papà ma non è Natale non è Natale? io sì non lo so per me è Natale non può essere non dici estivo eh scusi non so se che deve stare un po' più a tanta voce quanti quanti libri tre tre ma le leggi? leggi i titoli leggiamo leggi il titolo del libro Anna Lisa il Gianni ne ha preso tre quattro 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 mi ha preso quattro bello? sì bello e gli altri? e quello c'è scritto sugli altri dove è il diario? il l'astuccio guarda cosa arriva per Natascha tanti auguri per i tuoi sette anni anni mamma c'è scritto ma è scritto bene è scritto giusto la mamma sì mamma e Diego bello bravi cos'è che c'è ma lì ma è piccolo un sas è finto c'è tutta la carta ma quasi non sono le candoline dai dai sennò brucia la torta eh un altro pacchettino che sono calca tutta guarda che non c'è da lì stanno imbrogliati stanno imbrogliati guarda che perdi la roba vai 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 stava dentro la fessura cosa sono quelle cose? che bella sono le alpini? il l'attorno necessità dai una aspetto aspetta 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 bella aspetta Silenzio! Natascha di là, di là! Ok! Natascha! La zia Brunella è lo zio! La madre Désus Maldi Augurano un buon compleanno per i tuoi sette Sara Saran Biancaneve e chi sarà Sarà pronto, no? Fa bene lo stesso? Eh, era un buon moscio davvero! Come farlo se i due bambini siano ormai con la mamma? Questa è la magliettona! Che bello! Che bello, guarda che magliettona! Ciao! Dai che mi dà fastidio! Ecco le belle! Questa è solo mettere da dentro! Wow, è walking! Buone! Gianni, dai che ce l'hai di via! Siamo mamma! Chi è che c'è di sopra? Diego! Dove che era? Era il suo prendere un rire! E' un bambino! Diego! Diego! No, non è stato di robota! Diego! Ah! E' questo l'ho letto, questo! Ah no, questo! E' quello di Johnny! E' quello di Johnny! E' l'ultimo! E' l'ultimo! Ah, questo! Sì, sì, sì! Chi sa! Aiuto! Oh, non è mezza! Aiuto! Ma cos'è che è questa cicciapollo? quindi, questo è davvero grande! È la mia premessa! E' una grazia che è un bambino! E' un po' di tutto! Oli fiammiti! Ah! E' un po' di tutto! E' un po' di tutto! E' un po' di tutto! Come venine? Belli! Non fa sticciarli! Questo è vero! BELLE! Hai visto che erano sa più bucate? BELLE! BASTA! Mi hanno siamo a rinforzare le giabatti che non ci piva. Dove vieni! Beh, è quello di Johnny adesso. Vediamo Johnny. Mamma, leggi, prima legge il biglietto. Auguri, sempre così lo scrive. Mamma, auguri, vecchiona. Vecchiona? Allora adesso è più vecchione di me. Ho scritto il tuo fratello. Ha detto che l'anno fa la cammina ancora l'anno prossimo. A, Natascia. Cos'è questa roba? Sette. Ho fatto apposta, eh. Ha visto che ha fatto il terzo alla medaglia di percorso. Anni. Ho scritto sette anni. Fornografico! Sette anni ho scritto. E poi trapparete sette anni. Ho fatto apposta. E dopo hai fatto anni. Eh, ma Johnny. Occhio al segnale. Bello. Hai fatto la base. Se la mamma sbaglia quando guida. bello. 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 Bellissimo. Sì mamma, sono capace. Io le do, io le do. No, no. No, no. Tieni la mamma. No, no. Tieni la mamma. Tu c'era sull'alto. La tienilo, eh. No, no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.